La prima Harley Davidson? Prima Harley Davidson? Io avevo questo sogno, poi per me l'America, esatto, quel mondo là, no? Però era chiaramente qualcosa di inarrivabile. Però scegliamocelo noi un nome che ci piace. Non so, qual è il modello basi dell'Harley Davidson? È da lì il nome 883. È arrivato questo album qua, che sembrava fatto da due malati di mente, e poi non eravamo. Si è confermato questo fatto che fossimo un po' spostati. Questo è il vostro camerino? No, no, grazie. No, grazie, in che senso? Siamo pronti. Così. In realtà era talmente fuori questo album che faceva il giro due volte e diventava... Fio. Hanno vinto loro! 8, 8, 3!